Hi guys, ben attellati in un video approfondimento di una criptovaluta che diverse persone in realtà mi avete commentato e ne avete chiesto di andare a fare appunto un video dedicato, video dedicato che in questo caso stiamo parlando di una MECORIN. Sapete in realtà molto bene, per chi segue i format, che è caso di diverso tempo che non porto l'aggiornamento del mio portafoglio, ho fatto delle variazioni, infatti DICE commentate qui sotto se volete andare a fare un aggiornamento del mio portafoglio, se volete vedere un video del genere. Ma per chi segue questo format sa bene che io personalmente non investo in MECORIN, ok? Questo per diverse nature, perché appunto sono COIN e progetti mossi soltanto da HYPE e COMMUNITY, ma comunque sia sappiamo bene come è una grossa fetta di questo mercato, il mercato delle crypto è comunque extra, ciò che riguarda le MECORIN ha una grossa fetta di importanza ed è per questo che probabilmente ne avete chiesto di andare a fare questo approfondimento. Nonostante ciò, di cosa stiamo parlando? In questo video andiamo ad approfondire Shiba Shoutout. Shiba Shoutout, stiamo parlando di Shiba Inu, una MECORIN, della MECORIN, perché già Shiba Inu è una MECORIN per conto suo, però comunque sia è lo stesso Shiba Inu, ma ambientato nel Far West, non dico Far West degli Stati Uniti. Infatti vediamo come abbiamo tutta questa ambientazione grafica. Abbiamo ovviamente questa pre-sale, pre-sale che andremo ad approfondire, andremo ad analizzare nel dettaglio nel corso di questo video. Scorrendo verso il basso vediamo come ne parlano diverse state germaniche, come per esempio The Times of India, Seeky Paper, Watchers Guru, Coin Codex. Non sono link cliccabili, ma andiamo a vedere di cosa si parla. Stiamo parlando, in questo caso, Shiba Shoutout, che viene presentato come un Play2Hearn dove incontrano diversi doggy nel Wild West. Infatti sono ambientati nel Wild West, mettono a disposizione addirittura anche il Play Store e anche l'App Store. Di conseguenza, probabilmente è già downloadabile e in questo caso la Web3 App sarà disponibile a Brevent. Stiamo parlando, come abbiamo visto prima, di un Play2Hearn, in questo caso Sparatutto, One2One. In palica sono dei duelli effettivamente dal Far West dove il tutto è circondato da la criptura utile, in questo caso a Shiba Shoutout. Shiba Shout, che è il token, che può essere utilizzato per massimizzare tutte le abilità. Praticamente è un in-game token. Andando a vedere sul basso, qui possiamo trovare tutti i protagonisti. Abbiamo Marshall Shiba, Shiba Shopshooter e di altre altre. Inoltre, all'interno del gioco possiamo andare a esplorare la città, che è Shiba Gulch. Ma adesso entriamo un po' più nel tecnico e andiamo a vedere la Tufinomics. Innanzitutto vediamo come il 35% vi corrisponde a 670 milioni di token e sono destinati alla fase di pre-vendita. Infatti, che andremo ad approfondire nel corso di questo video, non vi preoccupate. Il vecchio per cento alla puntata, che vuol dire assicurati il tuo posto attorno al fuoco puntando i tuoi oggettoni. Praticamente stiamo parlando di una specie di roulette. Con 440 milioni di token, ovvero Shiba Shutter, riservati a coloro che desiderano guadagnare di più. Inoltre, 10% in fondo del progetto per andare a sviluppare durante il corso del tempo tutto il play to earn e tutte le varie funzionalità, le ingame token, eccetera, eccetera. Abbiamo il 10% di liquidità, 20% in commercializzazione. Infatti, per chi vuole proporre questo token ad un amico, ha la possibilità di guadagnare il 20% sull'investimento di Rieferral. Il 25% è destinato a tutti i premi. Andiamo però a vedere i token UT. Abbiamo, come ho detto prima, il programma di Rieferral. Infatti, per chi vuole invitare la mesia, la possibilità di aver guadagnare una percentuale sull'acquisto delle Rieferral. E anche un token di governance. Infatti, per chi deterne un certo quantitativo, anche abbastanza importante, di token ha la possibilità di andare a votare. Cioè, ciò che riguarda vari cambiamenti avendo potere di governance. Pare che struttureranno, almeno a quanto c'è scritto in questo sito, un Lucky Last Lottery, che praticamente è una lotteria che coinvolge la community per andare a vincere dei token. Inoltre, abbiamo anche funzionato per di staking. Infatti, per chi vuole mettere in staking questo preciso progetto, questo preciso token, può andare a fare guadagnando passivamente, ovviamente, non USDT, ma in token. Quindi, con le conseguenze indicazioni. Qui abbiamo la fase 1, che in questo caso ci lo abbiamo nella fase 1. Nella fase 2, invece, dove saranno lanciate su CoinGecko, su CoinMultiCap, hanno oltre 1000 odlers. Inoltre, il shout-out è andato in trending, appunto, anche su Twitter. Per la sezione delle criptovalute. Ovviamente, essendo una meme coin, non dobbiamo aspettarci crossing o abbassare un neccato. E' anche questi motivi che io non voglio andare a esporre in un portafoglio di obiettività delle meme coin in generale. Prima di andare a vedere la fase di pre-sale, più chiama su staking, infatti andiamo a vedere le varie funzionalità. Qui abbiamo tutte le pool, dove a tonnetta sono messi in stake, circa 22,5 milioni di shiba shot. Inoltre, c'è un reward, stimato di circa 1.460%. Ovviamente, questo è ricalcolato in base alla grandessa vele pool, a volte le persone vogliono mettere in stake, eccetera, eccetera, o non rimarrà assolutamente stabile, altrimenti non è assolutamente sostenibile. Nonostante che, ripeto, le ricompense vengono date e pur risposte agli e-staker in shiba shoot e non in stable coin. Attualmente, le current rewards sono dei 125,5 token per ECHAC block e qui possiamo vedere tutto l'andamento della total supply. Attraverso questo tasto qui, basta cliccare buy in stake, dobbiamo collegare ovviamente il nostro portafoglio, obbiscente utilizzato per best, best, wallet core, best wallet, metamask e coinbase, acquistare, tramite le varie scene, seguire i vari passaggi che andremo a vedere a breve come funziona. Qui, invece, attraverso we draw staking tokens, possiamo ritirare i token in stake e, invece, attraverso clean the words, possiamo andare, come vuoi, ottenuti le rewards, giornalmente andare a ritirare le nostre awards. Più capo su white paper, ovviamente ci apre un white paper che è consultabile e vi invito ad andare a belirlo. Se siete ovviamente interessati in questo progetto, sono anche auditati, auditati, attraverso solid proof, qui possiamo trovare tutte le informazioni, quest'audit risale al 20-2024, anche qui potete trovare tutto sull'ufficiale. E prima di andare insieme a vedere la fave di pre-sale, andiamo a vedere i canali social, come per esempio X.com. Su X.com vediamo come hanno appena 1454 e-scripti, è nato da poco, infatti da aprile del 2024 e qui comunque possiamo vedere come l'ingangement sia in linea comunque con gli e-scripti. Tornando sul sito speciale, andiamo a vedere come è strutturata la fase di pre-sale. Nel momento in cui sto registrando, uno super shot vale 0,096. ovviamente è una semplice pre-sale a scadenza. Tra cinque giorni, nel momento in cui sto registrando questo video, aumenterà il prezzo. Attualmente hanno raccolto più di mezzo milione di USDT, attualmente siamo a 692.292 USDT e hanno un goal per questo round di circa 1,4 milione di USDT. È possibile pagare con due centri principali, ovvero Ethereum oppure DMV. In putt'odd è possibile pagare anche in USDT o attraverso carta per credito. Come abbiamo visto prima, come ogni altra pre-sale, dobbiamo poi mettere il nostro wallet descentralizzato per poi andare a finalizzare la transazione. Non è assolutamente un mio consiglio di andare ad acquistare questa pre-sale. Infatti io personalmente non lo faccio. Sono andato a produrre questo video solo a scopo illustrativo. Infatti, personalmente, non mi piacciono in generale nel record. Però comunque ci sa. Commentate qui sotto, guys, nel box, cosa ne pensate di questo progetto. Se lo conoscevate, moltissimi di voi sicuramente lo conoscevano perché me lo avete chiesto. Ho ricevuto diversi messaggi di approfondimento, anche abbastanza intensi ed assidui. Lascio il link qui sotto nel box per chi volesse approfondire l'autonomia. Da Rainer è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Bye!